Comunicare bene il servizio offerto dalla pubblica amministrazione è la missione di ComPubblica, Associazione Nazionale di Comunicazione Pubblica Istituzionale, che da oggi ha nel direttivo un abruzzese. Sonia Fiucci, giornalista e responsabile dell'ufficio comunicazione di ASM, azienda multiservizi del Comune dell'Aquila e di altri comuni del territorio, è stata nominata nell'esecutivo dell'importante associazione, che è candidata a diventare riferimento regionale degli uffici stampa istituzionali e degli enti stessi. Per me è una grande soddisfazione essere stata nominata all'interno dell'Associazione Nazionale dei Comunicatori Pubblici, una soddisfazione per un lavoro che svolgo ormai da 30 anni dedicato completamente alla comunicazione e negli ultimi eventi alla comunicazione pubblica. A gennaio ho ottenuto la certificazione come comunicatore della pubblica amministrazione e riconosciuto dal MISE e adesso a luglio sono stata inserita e nominata all'interno del direttivo nazionale dell'Associazione Com Pubblica, un'associazione che dà il suo supporto da sempre agli enti e alle istituzioni nazionali. Nella nostra regione, come in tutte le regioni in Italia, il supporto della nostra associazione è necessario ed è utile al fine di raggiungere l'obiettivo di comunicare bene quello che è il servizio che offre la pubblica amministrazione al cittadino.